Per il Gran Consiglio soprattutto si può parlare ecco di elezione record nel senso che ci sono oltre 900 candidature di cui un 40 per cento sono candidature femminili quindi qualcosa in più anche rispetto al 2019 nel 2019 erano il 35 per cento. Va detto che nel 2019 poi in effetti anche le elette sono il 34 per cento quindi la proporzione di donne tra le candidate e tra elette è rimasta uguale. Consiglio di Stato invece siamo attorno più o meno qualcosina in meno rispetto al 2019 però ecco siamo sempre attorno a 50 candidature. La partecipazione è più diffusa nelle fasce di età più alte diciamo 60 e 79 anni è lì dove dove si vota di più. I giovani votano un pochino meno è dai 20 ai 35 anni lì ci sono i tassi di partecipazione più bassi purtroppo.